Posso registrare una conversazione in banca senza un esplicito consenso? Questo video risponde alla domanda se si può registrare una conversazione in banca senza che i partecipanti ne siano a conoscenza. È legale questa registrazione? Può essere usata in un futuro processo questa registrazione? Buongiorno, sono Enzo Caputo con SwissBankingLoyers.com che vi parlo da Parade Plaza Dorigo. Ho fatto questo video perché molti miei clienti stranieri mi chiedono sempre se possono registrare le loro conversazioni in banca con gli impiegati svizzeri. Mi chiedono se è legale in Svizzera fare queste registrazioni. I miei clienti vogliono dimostrare con questa registrazione che il rendimento di certi investimenti è stato garantito. La Svizzera ha una legislazione molto severa in materia di protezione della privacy. La legge federale sulla protezione dei dati è una delle leggi più severe del mondo. Le conversazioni private possono essere registrate solo se tutte le parti sono d'accordo. C'è bisogno del consenso. Ma ci sono delle eccezioni. Esistono infatti delle situazioni in cui la registrazione è perfettamente legale. Supponiamo che sta entrando in una sala di una banca. Tutti sanno che all'interno della banca viene tutto registrato. Guardando attentamente si può notare anche dove si trova la videocamera che sta riprendendo. Lo stesso vale per chi si trova in un supermercato. Anche in questo caso, in questa situazione, non puoi aspettarti di trovarti in un luogo di totale privacy nel supermercato. Ma se ti trovi nel bagno della banca, ti aspetti naturalmente che la tua privacy sia protetta e rispettata. Allo stesso modo, se chiami il tuo consulente in banca, questo si aspetta che la sua privacy sia protetta. Certe chiamate con la banca non sono protette e vengono registrate. In particolare le telefonate ai commercianti vengono sempre registrate. Ma qui, qui la banca deve informarti in modo chiaro e esplicito che si riserva il diritto di registrare le conversazioni. Ciò significa che qualsiasi registrazione di una conversazione telefonica, senza l'esplicito consenso di entrambe le parti, è illegale e non può essere utilizzata in un procedimento giudiziario. Futuro, se fai una registrazione in una situazione in cui generalmente esiste la privacy, allora rischi un'azione penale. Le registrazioni sono legali solamente quando è ovvio che non esiste privacy. Non esitare a chiamarmi se hai delle domande di questo genere, se hai delle domande giuridiche. Non costa nulla. Prendi il telefono adesso in mano e fai il numero 0041442124404. Chiedi a me prima che sia troppo tardi. Ricordati, non è mai troppo presto, ma spesso troppo tardi. Telefonami prima che sia troppo tardi. Ti auguro una bella giornata. Grazie dell'ascolto.